Sono da chiarire i contorni dell'incidente verificatosi sulla spiaggia del Lido Marinella di Porto Empedocle, nel quale è rimasto ferito seriamente un giovane di 35 anni. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, è stato azzannato dal proprio cane, un esemplare di razza Chow Chow, e le conseguenze sono state piuttosto gravi, tanto che si è reso necessario l'intervento di un elicottero del 118. Sembra che il cane si sia scagliato contro il proprietario, in quanto questi lo avrebbe picchiato, in base alle prime indicazioni. La situazione è apparsa fin da subito seria, tanto da richiedere l'arrivo dell'elisoccorso che ha trasportato il 35enne all'ospedale civico di Palermo, dove i medici gli hanno prestato le cure del caso e adesso lo stanno tenendo sotto osservazione. Sul luogo dell'accaduto è intervenuta anche la polizia, che sta svolgendo gli accertamenti del caso.